Va bene, allora rieccoci qui a continuare il discorso sulle scale di misura, sulle tipologie di scale di misura di cui avevamo già anticipato i nomi dicendo che sono 5 e abbiamo brevemente visto la volta scorsa, no neanche troppo brevemente, abbiamo visto la volta scorsa le caratteristiche della scala nominale e della scala ordinale. Ovviamente quando io devo prendere una misura non sempre, anzi spesso non posso scegliere la scala che voglio, ma dipende dalle caratteristiche dell'informazione che sto cercando di estrarre, quindi dipende più dalle caratteristiche dell'attributo misurato che non dalle mie scelte di misurazione. In alcuni casi cambiando il metodo di misurazione può darsi che possa misurare la stessa cosa in modi diversi, ma è più l'eccezione che non la norma. Abbiamo visto, tanto per rinfrescare la memoria, le scale tipo nominali nelle quali essenzialmente ciò che interessava era distinguere oggetti in diverse categorie e non potevamo dire a priori nulla relativamente a queste categorie, come erano posizionate tra di loro, se non semplicemente dire che fossero distinte tra di loro e quindi ci siamo limitati all'unica operazione che ha senso fare conoscendo solamente l'operazione uguale o diverso, cioè contare quanti sono uguali a me o contare quanti sono diversi da me. E da qua si può avere un solo tipo di informazione statistica significativa che è la moda, cioè dimmi quali sono gli insiemi, le classi che hanno il maggior numero di elementi. Poi siamo passati alla scala ordinale nella quale abbiamo giunto un ingrediente che era la possibilità di dire date due classi di elementi misurati, che fossero diverse, questo gesto lo dava alla scala nominale, dire quale delle due classi venga prima o dopo in un certo tipo di ordinamento. E quindi l'ordinamento tra le classi ci permetteva di dedurre un ordinamento parziale tra gli elementi, parlo di ordinamento parziale perché gli elementi che ricadono nella stessa classe tra di loro non sono ordinati, ma se gli elementi appartengono a classi diversi posso dire chi venga prima di chi. E quindi grazie a questo ordinamento potevo rappresentare ancora qui la misura su scale di tipo diverse purché la monotinicità dei valori fosse preservata. Non mi interessa il valore, quindi un, due, tre, quattro, ma potrebbero essere anche dieci, cento, mille, centomila. Il cambiare questi valori non ha nessun significato purché ne manteniamo l'ordine e l'ordine di questi valori deve essere coerente con l'ordine delle relazioni in cui nel mondo reale stanno questi livelli di accordo o disaccordo su una certa affermazione, per fare questo esempio. E qui abbiamo scoperto che avendo la possibilità di mettere in ordine gli elementi, potevamo definire delle metriche più sofisticate, basate sul ranking, quindi sulla posizione in cui si trova un certo elemento e quindi su qual è la classe a cui appartiene l'elemento che si trova al 50%, al 25%, al 75%, al 18%, dite la percentuale che volete e quindi dare una caratterizzazione di quartili, centili, decili, insomma ennili della mia distribuzione statistica. Possiamo fare ancora un passo in avanti. Allora, una scala ordinale si può trasformare in un'altra scala ordinale, quindi la stessa cosa la misuro in modo diverso, purché io sostituisca ai valori che avevo altri valori che sono monotoni crescenti. Qual è l'unico requisito? Aggiungiamo dei requisiti in più. Un modo, però più limitativo, di trasformare una scala di valori in un'altra scala di valori ugualmente crescente è quello, ad esempio, di applicare una trasformazione lineare, affine. Quindi, di tutti i modi possibili di trasformare una scala di valori in un'altra scala di valori, scegliamo quelli che possono soddisfare un'equazione del tipo la misura nuova è uguale a per la misura vecchia più B. Quindi nella mia scala 1, 2, 3, 4 non la potrei più trasformare nella scala 1, 10, 100, 1000, ma potrei trasformarla ad esempio nella scala 10, 20, 30, 40, oppure nella scala 100, 101, 102, 103. Sono tutte scale che si possono ricavare da 1, 2, 3, 4, scegliendo dei coefficienti A e B. Quindi sto riducendo l'arbitrarietà nella segnazione delle scale. Meno l'arbitrarietà mi darà più proprietà sulle quali posso far leva. Allora, in questo caso cosa succede? Succede che se io ho un elemento misurato secondo la scala M e vado a vedere il suo valore secondo la scala M' è vero sempre che se A è positivo ogni volta che M cresce anche M' cresce. Quindi mantengo la monotigità. Ma ho qualcosa in più. Se voi avete due misure M1 e M2 e ne fate la differenza M2 meno M1 e andate a vedere le misure. Nell'altra scala di misurazione M'2 meno M'1, facciamo delle differenze tra numeri. Queste differenze tra numeri al variare di M1 e M2 sono coerenti a meno della costante di proporzionalità A. esempio pratico. Se io questa trasformazione qua si adatta, sembra quasi essere l'esempio portante della scala di temperatura. Se M sono i gradi Celsius, se M' sono i gradi Fahrenheit, lì dentro c'è un'equazione che dice che i gradi Fahrenheit sono cos'è? 9 settimi più 23, una cosa del genere. Allora, io ho delle misure di temperatura in gradi Celsius e se i gradi Celsius aumentano anche la misurazione dei gradi Fahrenheit aumenterà. Quindi sono monotoni. Non solo, ma se la differenza di temperatura tra ieri e oggi e la differenza di temperatura tra oggi e domani sono una il doppio dell'altra, misurata in Celsius, saranno una il doppio dell'altra anche misurata in Fahrenheit. Se oggi ci sono due gradi più di ieri e domani ci saranno quattro gradi più di oggi, abbiamo il doppio. Io non so quanti saranno queste differenze di gradi in Fahrenheit. Mettiamo che siano 3,5. Allora vuol dire che se sono 3,5 oggi, facendo la differenza in Fahrenheit tra le temperature di oggi e quelle di domani, troverò 7, che è di nuovo il doppio di 3. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che non solo posso interpretare la monoticità, cioè il fatto di essere crescenti, di mettere in ordine, di valutare l'ordine di un certo insieme di dati, come facevo già nella scala ordinale, ma posso anche permettermi di fare le differenze, quindi valutare le variazioni di questi dati. E il fatto che una variazione sia più grande o più piccola di un'altra non dipende dalla scala di misura. Ricordiamoci cosa stiamo cercando di fare. Stiamo cercando di dire, ci sono due fenomeni fisici reali misurati. Questi fenomeni stanno in qualche relazione. L'abbassamento di temperatura di domani è doppio rispetto all'abbassamento di temperatura di ieri. Allora, questa è una quantità fisica. Io la misuro e voglio che questa informazione fisica la possa rappresentare indipendentemente dal metodo di misura che scelgo. Cioè, sia che misuro in Celsius, sia che misuro in Fahrenheit, questa verità, la differenza di temperatura di domani è doppio di quella di ieri, voglio che sia rappresentata. Uguale. Questo lo posso fare solo se le due scale sono legate ad una relazione di questo genere. Dove si preserva la proporzionalità tra le differenze. Quindi il valore assoluto della differenza non importa. Però se la differenza è uguale o se la differenza è raddoppia, ha un significato. E questo significato non dipende dalla specifica scala che scelgo, non dipende dai valori di A e di B. B, quando faccio una differenza, scompare. Vedete che se io faccio M'1 meno M'2, B si semplifica. E avrò A che moltiplica M2 meno M1. Quindi M1' meno M2' uguale A per M1 meno M2. Questo vuol dire che le differenze si preservano a meno di una costante moltiplicativa, una costante di proporzionalità. Allora, una misura che mantiene l'informazione sulle differenze, quindi il valore assoluto non mi dice nulla. Se uno dice domani ci sono 80 gradi Fahrenheit, beh, non vince nulla, perché non sappiamo cos'è il Fahrenheit. Ma se ci dicono domani ci sono 80 gradi Fahrenheit e ieri ce ne erano 75, allora sappiamo che stanno aumentando, sappiamo anche di quanto stanno aumentando. Quindi ciò che ci comunica sono gli intervalli. Noi possiamo, un intervallo è poi una differenza tra un punto di partenza e un punto di arrivo, sono scale nelle quali la comprensione del dato è data attraverso una differenza tra due punti. Le misure di questo genere sono tutte quelle nelle quali non esiste un punto di riferimento assoluto uguale per tutti. Non esiste uno zero comune per tutti. E quindi c'è un'arbitrarietà nello scegliere questo coefficiente B. La temperatura è un esempio. Ma anche senza andare agli antipaticissimi gradi Fahrenheit, se facciamo il confronto tra i gradi Celsius e i gradi Kelvin, vediamo che A vale 1, B vale 273,16. E quindi se mi dicono ci sono 200 gradi, se sono 200 gradi Kelvin, fa comunque un freddo boia perché siamo 70 sotto zero in Celsius. Però anche lì la differenza si mantiene. Un'altra misura fisica che è di questo tipo è la misura del tempo. Io dico siamo al giorno 200. 200 da cosa? Dall'inizio dell'anno? Dall'inizio del progetto? Dalla consegna del lavoro? Dalla firma del contratto? Cioè ogni volta che do una quantità temporale, devo sempre anche dire dov'è il punto di partenza? Dove metto il tempo zero? Qualunque pianificazione parte da un certo istante di tempo e dice ok, dopo tre mesi sarò lì, dopo sei mesi avrò fatto questo. Quando fate un Gantt, partite da un certo punto del tempo e vi proiettate in avanti. Ma ciò che disegnate sono intervalli di tempo, dei quali avete fissato arbitrariamente il punto di partenza. Ma l'unica cosa che ha senso è l'intervallo. Poi io il tempo lo posso misurare in giorni, in settimane, in mesi, in anni, e allora ho il coefficiente A che gioca. Se hai un settimo passo da giorni a settimane, se hai un trentesimo passo da giorni a mesi, se hai dodici passo da mesi ad anni. Questo ci spaventa meno. Però se uno mi dice questa attività è stata svolta nel giorno 140 e non so qual è il giorno, da quando ho iniziato a contare i giorni, non mi dice nulla. Io vado a misurare spesso delle durate. Cioè l'utente per inserire i dati ci ha messo 27 secondi. Questa è l'informazione. In cui ho fatto comunque, e non ti dico, l'utente ha finito questa operazione alle 16.26. Perché non mi dice nulla. Ha finito le 16.26 ma quando aveva cominciato? Quindi il tempo come le temperature sono classicamente unità di misura delle quali ha senso solamente parlare di intervalli. Perché il punto zero è arbitrario. Ma con questo tipo di unità di misura possiamo fare una cosa in più. Appunto la differenza. La differenza della somma poi alla fine sono la stessa cosa. E quindi Vabbè qui fare l'esempio del calendario lo stesso che dicevo prima a parole a seconda che noi contiamo un determinato evento sull'anno di calendario, sull'anno fiscale oppure dall'inizio di un progetto io potrei avere misure in mesi diverse. Siamo al mese 9 adesso siamo al mese 12 dell'anno ma magari siamo al mese 3 del progetto oppure uno contiene anni l'altro contiene in mesi. È normale. Siamo abituati a questa conversione. Noi ci stiamo un pochino obbligando a pensare ad abitudini di lavoro che già abbiamo acquisito. Ecco, grazie a questa caratteristica in più questa limitazione in più io obbligo una scala ad essere trasformabile in altre scale equivalenti solo attraverso una trasformazione lineare a fine. Cosa posso fare a questo punto? Beh, allora potrò fare le differenze ma una differenza è anche una somma somma algebrica somma e differenze sono la stessa cosa quindi se ha senso sottrarre due numeri ha anche senso sommarli ha anche senso rapportare differenze qua, qui dicevamo è aumentato nel doppio rispetto all'altro aumento quindi di queste differenze poi si possono fare anche delle divisioni tra di loro e quindi è la prima volta in cui effettivamente posso fare la media la media è quel valore sappiamo tutti calcolare la media però la media è quel valore che rende nulla la somma di tutte le differenze quindi se io ho tanti dati presi di ciascuno faccio la differenza col valore medio e tutte queste differenze fanno somma zero per definizione di media e quindi vediamo che la media è ottenuta attraverso delle differenze poi noi operativamente la calcoliamo facendo una somma dividendo per n perché aritmeticamente è equivalente però dal punto di vista concettuale io per definire la media ho bisogno di avere il permesso solamente di fare differenze che è la natura della scala degli intervalli è definita proprio per questo motivo è definita proprio su scale di misura di questo genere quindi per scale degli intervalli e ovviamente scale più potenti più ricche l'avevamo chiamata la volta scorsa è possibile parlare di media media aritmetica e di conseguenza anche di tutti i momenti successivi quindi la varianza che è la media degli scarti quadratici lo scarto quadratico medio la radice dello scarto quadratico medio e così via anche misure di ordine superiore perché comunque trovate sempre nelle formulette x con i meno x medio e quello lo posso fare nella scala ordinale non lo potevo fare quindi se ho delle misure di tempo e misure di temperatura posso parlare di temperatura media del mese sì il valore medio della risposta al questionario di gradimento invece non lo posso dire perché la scala delle risposte di gradimento è una scala solamente ordinale e quindi le differenze non hanno significato non sono indipendenti dalla scala che scelgo e quindi non le posso usare perché non essere indipendente dalla scala che scelgo vuol dire avere un elemento di arbitrarietà a seconda di come scelgo la scala faccio venire i risultati che voglio il risultato mi cambia l'interpretazione del risultato mi cambia questo è un esercizio che fanno sempre tutti abusare delle proprietà dei dati per far venire fuori l'interpretazione che vogliono se tu hai dei dati di tratti come numeri c'è sempre un'elaborazione che ti dimostra che hai ragione che poi questa elaborazione abbia senso è un altro discorso noi cerchiamo di fare cose che hanno senso perché le facciamo per noi per monitorare i nostri processi non per fare un po' di marketing in giro poi c'è la scala successiva che è quella ancora più ricca e devo dire la più frequente la scala dei rapporti che si ottiene dalla scala degli intervalli mettendo più uguale a zero quindi aggiungo un altro vincolo scala nominale è l'unico vincolo che le classi devono essere diverse quello ordinale è che le classi devono essere diverse e ordinabili la scala degli intervalli diverse, ordinabili ma ordinabili in modo proporzionale la scala dei rapporti è ancora in più in modo proporzionale diretto quindi una proporzionalità lineare non più affine cioè b uguale a zero non deve essere un termine noto allora se noi pensiamo alle comuni misure che si fanno negli esercizi di fisica massa, volume, lunghezza velocità eccetera eccetera sono tutte misure in cui è ben definito lo zero per cui che io misuri una cosa in metri o in centimetri c'è un coefficiente di conversione che è puramente moltiplicativo lo moltiplico per cento divido per cento per passare da metri a centimetri perché zero metri e zero centimetri sono la stessa misura mentre zero gradi celsius e zero gradi fahrenheit non sono la stessa misura lo zero ha un significato speciale nella scala dei rapporti sono quantità in cui lo zero ha un significato speciale e poi ovviamente mantengo la proporzionalità degli intervalli e quindi anche la proporzionalità dei valori a questo punto allora io riesco a dire che una lunghezza è il doppio di un'altra e non solo più che la differenza tra due lunghezze è il doppio della differenza tra altre due lunghezze quindi posso parlare anche del valore assoluto della misura e non solo delle differenze tra due misure prese dicevo la maggior parte delle misure sono prese così cioè tutto ciò che prendiamo dal ramo della fisica e delle scienze sono quasi sempre misure di questo genere anche nel caso della temperatura se prendiamo la scala giusta che è la scala Kelvin è una scala di questo genere purtroppo abbiamo dietro un retaggio di altre unità di misura che usiamo ancora e invece non ricadono qua dentro come le temperature Celsius allora se siamo in questo caso praticamente tutte le quattro operazioni ritmetiche hanno senso quindi posso anche moltiplicare e dividere tra di loro questi numeri e allora questo è il caso vero e proprio in cui effettivamente posso applicare tutte le proprietà matematiche che mi servono ma solo se dimostro se mi convincono che quei numeri sono numeri in una scala dei rapporti ad esempio se io misuro l'età di una persona l'età di una persona la posso misurare in anni o in mesi ma in questo caso lo zero è definito parlando di età l'età zero è quando la persona nasce questa è un po' una regola generale se io ho una quantità che di per sé sarebbe espressa in una scala degli intervalli come il tempo nel momento in cui io fisso l'inizio dell'intervallo e quindi faccio una differenza il risultato della differenza è espresso nella scala dei rapporti perché la B si semplifica banalmente quindi se io prendo una misura di tempo sono le 16 e 35 questa è una misura nella scala degli intervalli da solo non mi dice nulla finché non faccio una differenza rispetto a un altro punto ma se invece dico abbiamo iniziato la lezione da 25 minuti perché magari abbiamo iniziato alle 16 e 10 allora ho fissato uno 0 come inizio della lezione quindi parlo della durata della lezione non dell'ora in cui si trova questa durata è un numero espresso nella scala dei rapporti perché lo 0 ha un significato ben preciso l'inizio della lezione ho ottenuto questa scala dei rapporti facendo una differenza tra un valore variabile e un valore fisso in questo caso quindi molte volte quando abbiamo dei valori che sono espressi nella scala degli intervalli che è un po' tipatica da gestire molto spesso ci togliamo dai piedi facendo un delta facendo una differenza e il risultato della differenza è un valore che si può fare nella scala degli intervalli per questo la posso fare questa differenza il suo risultato è un valore che è espresso nella scala dei rapporti e quindi più facile da manipolare non ha senso calcolare la media o la varianza dell'ora a cui finisco lezione a volte devo finire alle due e mezza a volte devo finire alle 19 fai la media e la varianza di queste cose ti viene una varianza enorme di 4 ore ma questo qui non è neanche capace a gestire le sue lezioni perché ha una varianza di 3 ore nell'ora di fine perché è una misura stupida è una misura sbagliata se andiamo a vedere invece la varianza della durata lo possiamo fare ma stiamo lavorando sulle differenze e quindi la durata la misura sulla scala dei rapporti allora sulla scala dei rapporti dicevamo possiamo fare tutte le operazioni aritmetiche in particolare la divisione quindi posso dire che questa reazione ha durata 10% in più dell'altra che è la lunghezza di un tavolo e il doppio della sua larghezza cose di questo genere quindi rapportare tra di loro direttamente delle misure non delle differenze di misure e posso usare anche altri tipi di statistiche come ad esempio la media geometrica se mi dovesse servire la media geometrica è la radice annesima del prodotto delle anni misurazioni che è utile di fatto è la media aritmetica calcolata sulla scala logaritmica è una misura utile quando ho delle grosse oscillazioni di numeri e quindi per comprimerne le vedo su scala logaritmica altrimenti anche pochi numeri molto grandi dominerebbero la media aritmetica mentre invece in modo logaritmico quindi facendo la media geometrica viene smussato questo effetto però qui dietro abbiamo tutte le metriche che vogliamo anche se poi nella pratica si usano poco perché si va più sulla media e varianza molto spesso sono sufficienti perché ricordiamoci sempre il nostro obiettivo è quello di avere un indicatore che sia facile da interpretare quindi se ci mettono in una cosa che è statisticamente molto elaborata e poi dopo se chi la vede non capisce il significato di quel numero non stiamo progettando un sistema gestionale corretto esiste ancora una scala ancora più restrittiva della scala dei rapporti che chiamiamo scala assoluta la scala assoluta in realtà è frequentissima si usa tutte le volte in cui non ci siano due modi diversi di misurare una certa cosa cioè mettiamo rispetto alla scala dei rapporti in cui m' uguale a per m mettiamo a uguale a 1 e quindi m' uguale a m c'è un modo solo di misurare una certa cosa non hai la scelta tra unità di misura diverse se mi chiedo quante persone ci sono in quest'aula è un numero non è che lo misuro in unità di misura non posso esprimere unità di misura diverse è il numero di persone punto è un valore assoluto infatti assoluto spesso sta per privo di unità di misura quindi ogni qualvolta stiamo contando degli oggetti non ci sono due modi diversi di contarli non possiamo arrivare a due numeri diversi perché io ho usato un certo metro tu ne hai usato un altro io l'ho fatto in centimetri tu l'hai fatto in pollici no contare è contare quindi siamo passati dalla scala nominale in cui tu chiama le classi come vuoi perché siano diverse alla scala assoluta in cui c'è un modo solo di esprimere la misura questo chiaramente è un caso particolare della scala dei rapporti in cui dicevamo in cui forziamo A uguale 1 dal punto di vista matematico statistico posso fare tutte le stesse cose che potevo fare nella scala dei rapporti ho il vantaggio che non mi devo portare dietro un'unità di misura conta le persone è una scala assoluta conta i giorni è una scala dei rapporti perché contare i giorni che sono passati si potrebbe fare anche contando le settimane o contando le ore ho più modi di farlo invece per contare le persone è un modo solo quanto le persone posso contare le teste posso contare i nasi ma alla fine il numero è lo stesso quindi se la misura che prendo dipende dall'unità di misura che scelgo o addirittura se ho una scelta di unità di misura allora siamo nella scala dei rapporti se invece non ho un'unità di misura o non è possibile sceglierla perché è implicita nella misura che sto facendo allora passo la scala assoluta questo si fa dicevamo quasi sempre una scala assoluta si può modellare come la dimensione di un insieme un insieme di elementi non facciamoci ingannare perché ci possono essere degli attributi che sembrano misurabili su una scala assoluta in realtà non lo sono ad esempio se io parlo di un progetto in cui vado a valutare il numero di sviluppatore che ho su un progetto questo è un numero sulla scala assoluta quante persone lavorano su questo progetto diversamente se invece mi chiedessi qual è la lunghezza del software che è stato scritto allora lunghezza del software non vuol dire nulla è come chiedere quale è la lunghezza di questo tavolo sì ma la vuoi in centimetro o in metri lunghezza del software la vuoi in classi in funzioni in numero di linee in numero di istruzioni allora in questo caso non siamo in una scala assoluta perché devo scegliere un metodo di misura un metodo di misura un'unità di misura prima di poter parlare della lunghezza quando mi dicono il numero di sviluppatori non devo scegliere l'unità di misura è implicita quando invece se mi parlano della dimensione del gruppo di lavoro è quante persone contiene se mi parlano della dimensione del software sviluppato da solo non vuol dire nulla dimensione in che termini in kilobytes il numero di file il numero di linee o unità di misura diverse analogamente l'età l'età si misura anche qui su una scala dei rapporti e non sulla scala assoluta perché noi normalmente all'età diciamo quanti anni hai ma gli anni è una possibile unità di misura che poi usiamo sempre questa per tradizione non vuol dire che l'età si debba misurare sempre necessariamente in anni quindi questo riassume un po' il percorso che abbiamo fatto sulle 5 scale queste tabelline sono riassunte per ciascuna delle scale abbiamo riportato i modi ammissibili per passare da un sistema di misura a un altro compatibile che rappresentino esattamente la stessa realtà qui noi abbiamo il mondo reale abbiamo l'interpretazione che diavano di un fenomeno e in mezzo abbiamo le scale di misura quello che vogliamo fare è poter essere certi che l'interpretazione che ne do dipende solo dal fenomeno reale e non dalla scala di misura che ho scelto e a seconda delle caratteristiche della scala di misura questo è vero a varie condizioni condizioni che diventano via via più restrittive come avevamo già visto e a destra ci sono degli esempi di quali sono le tipologie di misure che si possono prendere o tipologie di contesti in cui si usano questi vari tipi di scale la scala nominale è una scala per etichettare classificare distinguere attribuire far appartenere in che dipartimento aziendale lavori in quello quella è una scala nominale la scala ordinale viene usata spesso per catturare spesso dei valori soggettivi se ti chiedo stai bene si sto bene se ti chiedessi quanto stai bene è difficile che noi riusciamo a dire 6.74 però se ti chiedo stai meglio di ieri o peggio di ieri allora a questo sappiamo rispondere quindi una percezione soggettiva la riusciamo a confrontare con altre percezioni soggettive io ti so dire sto meglio di ieri sto molto meglio di ieri ma non ti so dire sto 1,32 volte meglio di ieri quindi non c'è una proporzionalità non c'è una numerosità ho però delle fasce delle categorie in cui so esprimermi e so capire all'interno di quale categoria collocarmi è stato facile facilissimo difficile difficilissimo a questo so rispondere proprio perché queste scale ordinali spesso servono a catturare un elemento soggettivo è molto pericoloso estenderle troppo quando voi avete un questionario in cui dovete esprimere una valutazione da 0 a 10 ma sarà 6 o 7 sarà 3 o 4 non abbiamo elementi per distinguere 6 dal 7 soggettivi peggio ancora persone diverse interpretano questa scala diciamo dallo 0 a 10 in modo diverso per cui cercando di essere troppo precisi in una misura di tipo ordinale quando andiamo a misurare le qualità soggettive in realtà abbiamo delle misure falsate da un'interpretazione diversa delle scale in una scala da 0 a 10 quasi nessuno metterà 10 se invece la scala ha solamente 4 elementi probabilmente ci sarà qualcuno che dice sono molto soddisfatto quindi in questo tipo di scale di solito il numero di elementi ma questa è una prassi che viene incontro alla psicologia delle persone che potrebbero esprimere questi risultati sono di solito o 4 o 5 poi c'è gente che litiga per decidere se è meglio 4 o meglio 5 perché la caratteristica di avere 5 elementi è che ce n'è uno centrale e l'elemento di mezzo attira sempre l'attenzione quindi se quando non voglio sbilanciarmi voto a metà se invece ne ho solo 4 sono obbligato a sbilanciarmi se un po' di più sì o un po' di più no quindi c'è chi dice che una scala 4 è preferibile perché obbliga in qualche modo chi risponde a sbilanciarsi un pochino c'è chi dice che una scala 5 è preferibile proprio perché magari è importante la posizione neutrale però queste sono se vogliamo teorie che prescindono dal lavoro che dobbiamo fare noi che è quello poi di catturare e interpretare questi dati sono rognose queste scale ordinali tante volte non se ne può fare a meno però sono difficili da progettare e difficili poi da elaborare risultati perché abbiamo già visto più volte detto più volte che una media non la posso fare e così via le scale successive a parte le scale degli intervalli che è praticamente ristretta alla misura del tempo negli esempi pratici alla fine è quello che andiamo a misura sì la temperatura è bello come esempio fisico ma poi in pratica quando andiamo a misura la temperatura mentre invece il tempo è parte essenziale di qualunque sistema informativo nella scala dei rapporti invece abbiamo di nuovo il tempo ma inteso come l'undurata di un intervallo di tempo quindi qui il tempo è inteso come istante l'ora che ora è che giorno è e invece questo è inteso come la scala dei rapporti lo intendiamo come durata quindi di un intervallo di tempo la lunghezza la quantità eccetera eccetera e poi le quantità pure le abbiamo invece classificate nella scala assoluta dal punto di vista pratico c'è poca differenza tra gestire la scala dei rapporti delle scale assolute la scala assolute è un po' più semplice perché non hai tra i piedi l'unità di misura mentre le altre scale hanno bisogno di un pochino più di attenzione per poterse utilizzate non è un caso che la scala nominale esiste certo ma non ci si possa fare quasi cioè non venga usata molto proprio perché non è possibile estrarre delle quantità statistiche di rilievo cosa me ne faccio di poter solamente dire la moda quindi si cerca di prendere delle misure che prescindano dalla scala nominale quando possibile e dal punto di vista delle quantità statistiche che siano in grado di rappresentare in un modo più succinto possibile quindi con un numero solo le caratteristiche di un insieme di misure qui abbiamo la tabellina di compatibilità che ci dice per ogni tipo di scala quali sono gli indicatori statistici che matematicamente posso applicare è lecito applicare poi sceglierò io in funzione di che cosa sto cercando di rappresentare come quale indicatore scegliere oppure se inventarmi degli altri composti ad esempio ve l'ho accennato la volta scorsa sul finale di lezione se io ho una misura ordinale posso trasformarla in una misura derivata di tipo assoluto con un'operazione di conteggio la misura ordinale è 1,2,3,4 di queste misure di queste risposte 1,2,3,4 non posso fare la media però posso contare quanti hanno risposto 4 e quanti hanno risposto 4 oppure quanti hanno risposto 3 o 4 è una misura indiretta quindi una misura calcolata a partire da una misura diretta della misura base come abbiamo chiamato e poiché si tratta di un conteggio di elementi è una misura di tipo assoluto e quindi su questa misura posso applicare magari la media per cui io non posso immaginate di avere un questionario con 10 domande le cui risposte sono 1,2,3,4 come quelle della didattica non avrebbe senso fare la media di ciascuna domanda e poi dare un valore unico complessivo che sia la media delle medie non ha senso come invece viene fatto c'è un indicatore che è la media delle domande dalla 1 alla 5 però fai due peccati mortali in uno invece quello che avrebbe senso è contare quante volte è stata risposta 3 o 4 nella prima nella seconda nella terza o nella quarta domanda e poi fare la media di questi conteggi questo sì che lo puoi fare perché i conteggi sono una misura assoluta e allora hai un numero che è la media dei conteggi lo puoi esprimere anche in percentuale rispetto al numero di persone che hanno risposto che a occhio ha la stessa valenza magari la puoi anche esprimere questa media dei conteggi non su una scala del 0 al 100% ma da 1 a 4 di nuovo però è un indicatore perché somigli ai numeri che hai preso prima alle misure che hai preso però mentre fare la media delle medie mi dà un valore che non ha nessun senso matematico la media dei conteggi ha un senso e mi dice qual è il livello di soddisfazione medio sulle varie domande ad esempio ma questo è solo un esempio per dire che conoscendo queste scale conoscendo le caratteristiche di queste scale io posso in qualche modo costruirmi delle misure derivate che siano più facili da manipolare anziché manipolare scorrettamente delle misure base che sono in una scala sbagliata in un tipo di scala sbagliata tanto per intenderci è quello che facciamo sempre con le misure di tempo ragioniamo sempre solo su durate su intervalli di tempo che è un modo per fare la sottrazione di due valori nel campo intervall e quindi ottenersi ottenere un risultato nel campo dei rapporti nella scala ratio quindi alla fine quello che cerchiamo di fare quasi sempre è di riportarci quando riusciamo nelle ultime due scale che sono quelle che ci danno più tranquillità quando non ci riusciamo sappiamo che potremmo stare in formazione parziale quindi avendo fatto tutto questo percorso sulle scale di misura possiamo finalmente dire che siamo in grado di fare delle affermazioni significative meaningful cioè un'affermazione un'interpretazione di una statistica è significativa è meaningful vuol dire qualcosa significativa in italiano mi rende poco perché meaningful in inglese è un contrario che meaningless vuol dire non vuol dire niente spazzatura in italiano il contrario di significativa è non significativa ma non è così cattivo come espressione sto dicendo una frase che ha un senso se ovviamente una frase che coinvolga delle misure se la verità di questa affermazione è indipendente dal metodo di misura che uso e quindi ipoteticamente come esercizio mentale cambiando scale se lo ricalcolassi la stessa cosa cambiando scala facendo una trasformazione di scale la conclusione a cui raggiungo non cambia se io misuro cioè voglio scoprire le leggi di Newton con un metro graduato in centimetri o con una regola graduato in pollici scopro le stesse leggi di Newton beh la costante di gravità avrà un valore numerico diverso ma le leggi sono le stesse i rapporti sono le stesse le caratteristiche sono le stesse quindi in questo senso le leggi Newton sono affermazioni significative hanno un significato e non sono affermazioni che valgono solamente in un contesto in una scelta in una specifica scelta di metodo di misura in una specifica scelta di unità di misura tutte le volte che fate un errore di questi commettete un errore di questi arrivate a un risultato una conclusione che è campata in aria potrebbe se aveste fatto i conti in modo diverso se aveste messo le scale in modo diverso potreste raggiungere la conclusione opposta un po' quando in matematica al primo anno vi facevano un mazzo così quando vi dimenticate di scrivere x diverso da 0 quando dividerate per x ti dimentichi questo allora qualunque risultato è buono perché nei tuoi calcoli hai fatto un passaggio che non era lecito e quindi da quel momento in avanti è tutta spazzatura fatti cose hai fatto tanti conti tanti parenti ma da lì è tutto sbagliato perché hai fatto un passaggio che non potevi fare e quindi le conclusioni di ciò che ottieni sono sbagliate dice alla fine x è uguale a 7 no e perché no perché hai sbagliato lassù ti sei dimenticata che quell'operazione non la potevi fare non potevo buttare via la radice senza tenere conto del segno del radicando e così via cose brutte che abbiamo dimenticato per fortuna però il concetto è lo stesso quindi qua ci sono alcuni esempi di affermazioni meaningful che hanno un senso qui sto facendo un'affermazione che non è più solo la misura ma è come interpreto la misura che ragionamento faccio sulla misura ad esempio il numero di errori scoperti durante la fase di test di integrazione era almeno 100 in questo caso sto usando una scala assoluta giusto? perché sto contando il numero di errori il numero di volte che paff è saltato fuori un errore durante una certa fase durante il test di integrazione qui non ho bisogno di fare operazioni statistiche faccio una certa fase di lavorazione durante questa fase si verificano degli eventi io conto quante volte questi eventi sono verificati un semplice conteggio se io ripetessi questo test di integrazione tante volte quindi la prima volta trovo 70 errori la seconda volta ne trovo 90 la terza volta ne trovo 120 su questi numeri potrei calcolare la media e potrei dire che la media del numero di errori rivelati nei test di integrazione che sono stati fatti negli ultimi sei mesi è 93 anche questo avrebbe senso perché sto facendo la media di un valore espresso nella scala assoluta il costo di rimediare a ciascun errore è almeno 100 allora questa affermazione può essere può essere meaningful purché ci mettiamo d'accordo su che cos'è il costo su qual è l'unità di misura del costo può essere il numero di ore di lavoro il numero di giorni di lavoro per correggere quell'errore gli euro per cui devo pagare un consulente per mettermi all'opposto sono modi diversi di misurare la stessa cosa quindi questo è un valore che è nella scala dei rapporti perché dire 100 senza dire l'unità di misura del costo con cui esprimo il costo è incompleto quindi è incompleta qui devo aggiungere 100 che cosa una volta che l'ho specificato oppure è implicito nella definizione di costo che ne do una volta che ho specificato ho un valore nella scala dei rapporti l'azienda X può contabilizzare in ore l'azienda Y può contabilizzare in giorni e quindi non saranno d'accordo sul valore numerico 100 oppure le 8 ore in un giorno sono 100 18 farebbe 15 e qualcosa a parte la conversione del valore numerico però possono essere d'accordo sulla verità di questa affermazione cioè questa affermazione dire che ha un senso che è meaningful non vuol dire che sia vera o falsa ok perché può essere vera in un contesto in un progetto complicato è vero che costa tanto correggere gli errori un progetto più semplice è falso perché correggere gli errori costa meno io non mi sto preoccupando se sia vera o falsa mi sto preoccupando se abbia senso chiedersi se è vera o falsa cioè se la frase che ho scritto ha senso oppure è una costaglia di parole che non vuol dire nulla di cui a quel punto può essere vera o falsa a caso può saltarmi fuori vera o falsa a caso a caso vuol dire influenzata da altri fattori che non sono la realtà del fenomeno che sto misurando cioè sto cercando di fare attenzione a avere delle informazioni sul mio sistema che dipendano solo dal sistema da cosa sta facendo il sistema e non dall'accrocchio che ci metto sopra per misurare perché poi di accrocchi ne faremo adesso ma vogliamo essere sicuri di non fare passi falsi un errore semantico richiede almeno il doppio di tempo per essere corretto rispetto a un errore sintattico e questo è un'affermazione che si interpreta nella scala degli intervalli perché vado all'intervallo di tempo in un caso e nell'altro caso poi può essere vero può essere falso dipende dai casi e così via ma qui c'è il punto erogativo a fianco mi l'ho dimenticato che comparivano i simbolini l'ultima affermazione invece non è significativa perché io non so che cosa definire per complesso che definizione dare di complesso non è la complessità di una cosa detto così non è misurabile quello di complesso 3 è complesso 4 allora io posso avere magari una valutazione soggettiva della complessità è facile è difficile è molto facile è molto difficile allora se come complesso intendo una valutazione soggettiva ordinale allora non posso parlare del doppio o della metà perché sulle scale ordinali non ho il permesso di farlo quindi questa frase non riesco a interpretarla quell'altra la interpretavo bene ma mi mancava un'età di misura questa non riesco proprio a interpretarla in modo significativo in modo sensato a meno di non sostituire complesso con una qualche misura di complessità più precisa oppure di togliere twice e mettere more più complesso o meno complesso anziché il doppio più complesso perché io non vi saprei fare nessun esempio di una cosa che è il doppio più complesso di un altro ma è proprio il doppio è 2.0 non 2.05 e come fai? quindi la quantificazione di un rapporto di una proporzionalità che è tipica della scala dei rapporti dalla scala ratio in su cozza con la definizione non precisa al più ordinare di un concetto di complessità quindi bisogna solo fare attenzione a come si e qui allora Fred è il doppio più alto di Jane si può dire è una situazione un po' strana ma magari Jane è una bambina ma sì perché l'altezza essere alto è una misura sulla scala dei rapporti perché la scala dei rapporti? perché lo zero è noto essere alto zero vuol dire essere piatti a terra e quindi l'altezza la misura dell'altezza avviene sulla scala dei rapporti e sulla scala dei rapporti è possibile dire fare divisioni tra misure diverse mentre dire la temperatura a Tokyo è la doppia di quella di Londra numericamente può capitare che sia vero ma non ha senso perché se tu mi dici che a Tokyo c'erano 4 gradi e a Londra ce ne erano 2 sembra che la temperatura di Tokyo sia il doppio di quella di Londra ma se poi prendo i gradi Celsius e si trasformo in Kelvin lasciamo perdere gli antipatici Fahrenheit otteneremo che a Tokyo ci sono 277 gradi e a Londra ce ne sono 275 che non è il doppio quindi questa affermazione passa da vera a falsa a seconda della scala che scelgo quindi non è una affermazione sensata la posso usare per manipolare questo si se voglio se sono nel marketing ma non la posso usare sicuramente per fare controllo di processo perché non mi va a misurare ciò che succede davvero ma va a misurare il metodo di misura cioè va a valutare il metodo di misura che ho scelto mentre invece potrei rifrasare la stessa cosa visto che la temperatura è una quantità espressa nella scala degli intervalli dicendo che la differenza di temperatura tra la temperatura che c'era a Tokyo e a Londra oggi è il doppio di quella che c'era ieri quindi se è vero che a Tokyo ci sono 4 gradi e a Londra ce ne sono 2 la differenza è di 2 gradi ieri magari la differenza è di un grado solo se rifaccio il stesso aggiornamento traslando in Kelvin viene uguale perché 277 meno 275 fa sempre 2 e qualunque coppia di temperature in Celsius avesse una differenza di un grado ha anche differenza di un grado in Kelvin e se lo rifaccio in Fahrenheit la differenza non è più di un grado sarà di qualche cos'altro ma è sempre il doppio comunque per via della trasformazione lineare a file tra queste misure quindi questo ha senso posso scegliere dentro implementativamente la scala che voglio ma il risultato che faccio vedere al manager qui è il doppio di ieri è un risultato valido sensato mentre prima qua è un risultato completamente campato in aria quindi la coppa non è dei numeri ma dell'uso che ne facciamo ovviamente e l'altra cosa di cui dobbiamo essere consci è capire quali misure siano effettivamente oggettive e quali misure invece siano soggettive allora misure realmente veramente davvero sempre oggettive non esistono nella realtà perché come avevamo detto quando abbiamo cominciato a parlare di queste cose il fatto stesso di misurare una cosa cambia il comportamento delle persone che sono coinvolte quindi l'oggettività assoluta non la potrai mai avere potresti averla solo se riuscissi a fare una misura senza che nessuno sappia no? oltre che essere illegale non è neanche fattibile in pratica quindi un po' di sostitività c'è sempre ma noi possiamo cercare di puntare ad avere delle misure il più possibile oggettive o meglio noi possiamo puntare ad avere degli indicatori perché sono quelli che ci interessano indicatori sintetici che siano basati il più possibile su misure oggettive per altri elementi invece ci dobbiamo accontentare di misure soggettive cioè nelle quali sia coinvolta la percezione il giudizio la valutazione da parte di una persona e tutte le volte che facciamo un questionario di gradimento o cose di questo genere un'intervista ricadiamo nel mondo delle misure soggettive che in qualche modo statisticamente su grandi numeri si possono trattare però bisogna sempre fare attenzione perché molto spesso le scale sono ordinali gli errori sono alti se il campione non è abbastanza grande eccetera e allora tra le due se noi stiamo progettando un sistema di controllo immaginiamo che uno degli indicatori che vogliamo estrarre sia se un sistema è facile o difficile da usare ok? io metto in campo un sistema informativo nuovo e voglio capire se gli utenti lo trovano facile da usare allora lì si aprono due strade strada uno faccio un questionario faccio delle interviste allora avrò attraverso il questionario delle misure soggettive dipende da come si è alzato quella mattina dipende da quanto è simpatico l'intervistatore dipende dal fatto che lui alla fine della giornata ne ha le scatole piene e di dover fare ancora il questionario negli ultimi cinque minuti non ha troppa voglia e così via quindi ho questi dati e poi devono essere loro volte elaborati l'altro modo è provare a definire delle misure oggettive dirette che siano riconducibili da facilità d'uso ad esempio il tempo impiegato a fare certe operazioni se l'impiegato per fare un'operazione che richiede quattro click ci mette un secondo un secondo e mezzo va bene se ci mette 20 secondi perché? dove lo perde questo tempo? a cercare di capire cosa deve fare forse oppure posso misurare il numero di errori quante volte l'operatore fa certe operazioni poi torna indietro poi dopo prende una strada diversa oppure deve annullare cliccare su annulla torna indietro allora vuol dire che il sistema sta guidando l'utente a fare operazioni di cui dopo lui si accorge che non sono corrette deve tornare indietro e quindi il sistema inganna l'utente lo guida nelle direzioni sbagliate allora in questo caso ho delle misure oggettive che non sono la stessa cosa non c'è una relazione uno-uno tra ciò che ottengo attraverso un questionario e ciò che ottengo attraverso misure di questo genere ma misure oggettive di questo genere tra l'altro costano zero non costa niente ottenerle perché tanto quel bottone annulla o quel modulo lì che ti hai messo di 20 secondi a compilare è il sistema informativo che te l'ha gestito che te l'ha proposto dal passo uno nel passo duro del caso d'uso non mi costa niente quando implemento il sistema a mettere a salvare il tempo che ci ha messo l'utente in quel punto si chiama strumentare il codice o strumentare il sistema cioè nell'implementazione del sistema aggiungo degli strumenti delle istruzioni che servono per misurare delle quantità di ciò che sta facendo il sistema e una volta che ho strumentato il codice per estrarre per prendere alcune misure nei punti che mi interessano quelle misure mi arrivano sempre gratis senza far nulla senza pesare sull'utente e quindi quando poi andrò a migliorare mi accorgimi che c'è un problema e lo vado a migliorare speriamo che vado a migliorare anziché a mi accorgo che è un problema di formazione è un problema di interfaccia è un problema di occhiali che non ho fatto le visite oculistiche ai dipendenti non lo so il problema può essere di 50.000 cause può avere 50.000 cause diverse una delle quali è il sistema progettato male allora cerco di progettare un pezzettino ma non è l'unica e allora quando vado a intervenire sul processo il sistema informativo stesso sta continuando a prendere le stesse misure e dovrei aspettarmi che le misure varino ci sia un cambiamento nelle misure riportate quindi posso vedere subito subito nell'arco magari di una settimana o due se c'è un impatto quando io metto in campo delle azioni correttive che sono comunque sempre un costo vado a vedere immediatamente o quasi immediatamente se questa azione correttiva ha avuto un effetto favorevole lo posso misurare posso confrontarlo posso iniziare l'azione correttiva con un piccolo gruppo di persone e vado a vedere se quella metrica è migliorata su quel gruppo di persone se non è migliorata vuol dire che la azione correttiva non serve a niente pensavo che fosse quello il problema invece non lo era allora ne provo un'altra prima magari di estendere a 10.000 persone queste cose non le posso fare se ogni volta che tocco qualcosa modifico qualcosa devo fare un questionario fare un questionario ad una platea ampia di persone richiede settimane quando va bene e costi incredibili preparare mandare anche se il questionario fosse online devo mandarlo alla gente ricordarglieli hai finito non hai finito mandare la mail di reminder eccetera perché non l'hai compilato come gestisco quelli che non hanno compilato c'è sempre una percentuale che non lo compila qua invece no ok quindi anche se stiamo cercando di estrarre informazioni che inoltre sono soggettive possiamo in qualche modo stimarle in modo oggettivo andando a prendere delle misure che sono correlate con con le azioni con le azioni che l'utente fa visibili dal sistema o poi c'è sempre il caso in cui l'omino ci ha messo 20 secondi perché nel frattempo o magari ci ha messo 3 minuti perché nel frattempo è andato a prendersi un caffè va bene quello è un dato se io monitoro 10.000 utenti per due settimane quel singolo dato sparisce quando faccio l'aggregazione la media eccetera anzi di solito i dati che sono troppo al di fuori dalla gaussiana vengono proprio cancellati perché vanno a catturare condizioni anomali allora se questi dati fuori standard fuori dalla media sono pochi li elimino perché fanno parte di anomalie di misura c'è sto bisogno di una cosa quando in realtà l'utente pensavo che l'utente fosse davanti allo schermo invece lui l'ha risposto al telefono è andato in bagno è andato a fumare una sigaretta è andato a prendersi un caffè non lo so cosa si è addormentato è crollato sulla tastiera allora se questo capita frequentemente lo devo andare a indagare se capita raramente posso ignorarlo perché mi interessa il dato centrale che questo tra l'altro è ciò che succede tutte le volte che voi aprite un sito web dei grandi nomi tutte le volte che voi aprite un google un facebook un twitter o cose di questo genere state pur certi che il tempo che ci mettete a cliccare un bottone loro lo misurano sicuramente e fanno quello che si chiama alfa beta testing o a b testing in continuazione vanno a vedere ma quell'icona lì è meglio così o è meglio mezzo millimetro più piccola e allora prendono un campione di 100.000 utenti e dicono a quei 100.000 utenti gliela faccio vedere più piccola senza chiederti il permesso o altro e vado a vedere se questi 100.000 utenti hanno un comportamento statisticamente aggregato diverso dagli altri e li deducono allora è meglio lo estendiamo a tutti questo avviene in continuazione ok se dovessero fare un questionario sul fatto che quell'icona tu la vuoi un pochino più grande o un pochino più piccola sarebbe un macello dal punto di vista dei costi e una schifezza dal punto di vista delle risposte ma che ne so ma che ne so se è meglio così o così se la differenza è minima che ne so se è meglio se lo metti a sinistra o destra se me lo chiedi non lo so se poi tu lo fai io mi accorgo che è più facile o difficile ma questo viene esposto quindi scegliere tra queste due modalità è difficile la mia indicazione è il più possibile cerchiamo di andare verso gli obiettivi per tutti i motivi che abbiamo cercato di assumere qua lo vedremo più avanti quando faremo i KPI quando si parla di soddisfazione degli utenti la prima cosa che viene sempre in mente ah mandiamo un questionario no? io prima di mandare un questionario ci penso sempre molte volte per capire se non c'è un modo meno costoso e più affidabile di ottenere non la stessa informazione perché non è la stessa informazione non è la stessa domanda ma un'informazione che mi dia la stessa indicazione poi a me del numero non interessa nulla mi interessa l'indicatore mi interessa qualcuno che mi dica se questa cosa funziona o no e quindi può essere questa indicazione è ottenuta in modi diversi quindi la parte cruciale è essere poi in grado di interpretare questi valori cioè quando io ho fatto tutto il mio calcolo le mie scale ho fatto le medie ho fatto la scala dell'intervallo insomma ho risolto tutti i problemi che abbiamo visto ho avuto un metodo oggettivo misurato in automatico non invasivo che non dà fastidio all'utente eccetera eccetera il mio sistema mi dice 8 per la misura di quello che volete 8 secondi che è il tempo che l'utente ci mette a fare una certa operazione io guardo quell'8 secondi sullo schermo e dico e beh cosa mi dici 8 lui lo chiedo lui non risponde ovviamente perché è un numero scritto sullo schermo allora sono io che devo avere in realtà devo averlo dal inizio fino all'inizio le idee chiare su come interpretare poi e qui torniamo stiamo uscendo dal sistema informativo che fa i conti stiamo tornando all'umano che lo usa al manager che lo usa devo essere in grado di interpretare quel valore 8 è buono o non buono è in assoluto un numero sempre un numero e non è né buono né non buono di per sé devo confrontarlo con il valore che mi aspetterei di quel numero di quel indicatore devo vedere un indicatore che è il tempo speso da un utente nello svolgere una certa operazione ok a priori che valore mi sarei aspettato 2 6 15 allora potrei andare a confrontare quel valore con un valore obiettivo mi ero dato un obiettivo nel progettare il sistema che quel numero fosse minore di 9 ho trovato 8 sono contento bene però per poter interpretare un valore devo sempre avere un termine di raffronto l'affronto può essere nel caso più semplice concettualmente ma più difficile da fare in pratica un obiettivo che mi sono posto a priori il problema è che è spesso difficile inventarsi perché di questo si tratta un obiettivo ragionevole così dal nulla allora come faccio a sapere qual è l'obiettivo che mi devo porre beh posso andare a vedere cosa fanno gli altri secondo punto il benchmark cioè vado a fare un campione un campionamento di quant'è quel valore di quell'indicatore misurato su casi simili al mio magari nello stesso sistema informativo o già dalle altre parti delle funzionalità già implementate già in produzione che sono simili a questa andiamo a vedere la qual è misurare la il tempo e vedere quanto vale o magari adesso qui è un tempo di esecuzione ma lo posso fare sui miei concorrenti se i miei concorrenti hanno una cosa simile alla mia hanno delle funzionalità simili alla mia hanno dei processi simili ai miei faccio la misura sui loro processi per quanto posso perché magari non ho tutte le informazioni e vedo che il numero salta fuori e allora provo a valutare come sono messo io come ho messo il mio processo il mio indicatore che ho calcolato rispetto a un indicatore di categoria la finanza è molto basata su questi concetti faccio un benchmark dei fondi di quelle aree di quel tipo di capitalizzazione di quel tipo di valuta vedo quanto rendono e lo confronto con quanto rende il fondo che ho io quindi ovviamente poi la scelta di questo benchmark da fare diventa poi critica però scelgo con chi mi confronto allora io voglio essere meglio del mio concorrente allora definisco delle misure e verifico che su quelle misure il mio sistema i miei processi perché non stiamo misurando la qualità del sistema informativo stiamo misurando la qualità dei processi che sono permessi dal sistema informativo quindi la qualità dei miei processi è migliore in questi elementi rispetto a quella del mio concorrente quindi sto lavorando meglio quindi il benchmark lo posso fare su altre funzionalità mie oppure su altre aziende organizzazioni che svolgono funzionalità simili oppure se non è pure questo tipo di confronto posso guardare al passato il valore oggi è 8 secondi un mese fa quant'era? due mesi fa quant'era? questo 8 è in un trend di diminuzione o in un trend di aumento? quindi anche se non ho altri con cui confrontarmi posso sempre confrontarmi con me stesso in intervalli di tempo diversi quindi analizzare le derivate se è screscente o decrescente e quindi di trovare delle conclusioni del fatto magari non so qual è l'obiettivo ma so che sto migliorando in questo aspetto oppure sto peggiorando questo soprattutto se riesco poi a attribuire le variazioni ad alcune azioni che ho fatto qui bisogna fare attenzione soprattutto alla granularità temporale con cui vado a vedere le cose cioè non ha senso andare a controllare oggi rispetto a ieri perché come tutti sappiamo il lunedì e il martedì sono due giorni diversi il lunedì uno fa più casino sempre perché è lunedì quindi se vado a vedere che l'indicatore del martedì è migliorato rispetto a quello lunedì ah che bravo che sono stato no semplicemente perché è martedì o perché è lunedì quindi bisogna andare a scegliere un intervallo di osservazione sufficientemente ampio da andare a contenere e quindi mediare le oscillazioni naturali del fenomeno quindi però una volta e quindi vuol dire che questo tipo di analisi ha senso farla su funzionalità che sono in produzione operative da lunghi periodi di tempo da mesi da anni allora hai abbastanza dati per poter andare a fare queste analisi se è una cosa che ho messo appena in campo che tra l'altro magari anche nuova per i miei utenti diventa molto difficile a fare i confronti o troppi pochi dati su intervalli di tempo troppo ristretti oppure alla peggio posso chiedermi per altre misure di questo tipo che magari non c'entrano neanche molto qual è il valore normale normale nel senso della norma allora definisco vado a vedere se parlavamo prima di una misura di tempo per svolgere una certa funzione io potrei andare a prendere delle misure di tempo di altre parti del sistema classificarle in gruppi qui non il valore esatto 8 ma da 1 a 2 da 2 a 6 da 6 a 10 e vedere qual è la categoria qual è il range di valori più frequente per quel tipo di fenomeno è una misura più grossolana è come se ti chiedessi ma di solito quanto tempo ci vuole a compilare un form dipende da quanto è lungo da quanto è complicato da che cosa ti chiede sì ma di solito dammi un valore dammi un valore normale dammi un valore indicativo ecco è questo che non è un valore misurato direttamente su quel obiettivo su quel elemento ma stavo per dire standard di riferimento ma non mi piace la parola standard perché non è per nulla no? un valore normale di norma è intorno a questi valori ok? e via quindi via via siamo sempre meno precisi però in ogni caso dobbiamo sempre essere coscienti che dobbiamo scegliere un valore di raffronto con cui interpretare il valore che abbiamo ottenuto dell'indicatore perché altrimenti abbiamo una bellissima pannello di controllo una bellissima dashboard un bellissimo cruscotto con tante freccioline tanti numerini tante etichette pieni di numeri ma non sappiamo dire quali di questi numeri siano buoni o no quali di questi numeri stiano indicando che il sistema sta funzionando bene oppure no tra l'altro se io ho un confronto esplicito o un obiettivo esplicito questo obiettivo lo posso dire al sistema informativo manageriale e quindi sarà già il sistema informativo a colorarmi in rosso le cose che sono fuori o troppo lontane dall'obiettivo e quindi mi attira già l'attenzione su quali indicatori sono fuori standard o fuori norma o fuori obiettivo o stanno peggiorando rispetto al passato o sono peggio rispetto ai concorrenti rispetto al mercato quindi lo sforzo da fare è di definire qual è il valore ottimale dell'indicatore e dirlo al sistema informativo manageriale il quale a questo punto dopo aver calcolato l'indicatore facendo fatica estraendo i dati dal sistema informativo poi farà i calcoli le medie le aggregazioni temporali che servono e lo andrà a confrontare con i valori di riferimento e a quel punto mi fornisce un dato corretto meaningful come dicevamo prima oggettivo se ci riesco e interpretato cioè con già un primo pezzo di interpretazione interpretato l'indicatore singolo poi ci penserà la funzione manageriale a dare l'interpretazione complessiva non posso fermarmi al singolo indicatore e andare a vedere anche gli altri perché magari uno è migliorato ma l'altro è peggiorato e quindi complessivamente devo ragionare su che cosa sta succedendo questo nessuno ce lo toglie però abbiamo già dei dati il più possibile parlanti ci stanno parlando questi cruscotti ci stanno dicendo cosa va bene e cosa non va bene questo è e non sempre l'obiettivo può essere un numero o il valore ottimale è l'unica cosa che ci interessa di solito quello che cerchiamo di dare quello che cercheremo di fare anche negli esercizi è cercare di ragionare per trovare dei range tre range diversi quindi con due valori di taglio uno un valore al di sotto del quale non voglio scendere e quindi è una serie di valori accettabili accettabili purché adesso qui dico al di sotto ma potrebbe essere al di sopra dipende se questo indicatore ad esempio se è il tempo speso dall'utente questo tempo più è breve meglio è quindi i valori accettabili sono i valori i valori migliori sono i valori più piccoli mentre invece se il mio indicatore misura un costo no perdono un costo un ricavo il costo è la stessa cosa se misura un ricavo più è grande meglio è misura una produttività un'efficienza più è grande meglio è quindi questa scala bisogna fare attenzione come la leggiamo però possiamo sempre identificare dei valori accettabili e dei valori obiettivo o valori ideali il tempo speso dall'utente idealmente dovrebbe essere minore di 4 secondi ma è comunque accettabile se è minore di 6 se diventa maggiore di 6 o quello che è comincio a preoccuparmi devo intervenire se diventa minore di quanto ho detto 4 sono contento ho raggiunto l'obiettivo perché non è bianco e nero la gestione per cui gli obiettivi sono tutti raggiunti perfetti ci sono alcuni che sono più o meno lontani e devo capire se non sono dentro l'obiettivo ma ci sono comunque in una fascia di accettabilità oppure sono in condizioni diciamo pericolose quindi potrebbe essere un semaforo rosso giallo e verde se me lo immagino sull'interfaccia che mi cerca di veicolare per interpretare già quel valore ok questo se vogliamo è ciò che stiamo cercando di fare adesso ci daremo dopo l'intervallo uno schema per poter ragionare torniamo sui processi sul sistema informativo e ragionare sulla costruzione di indicatori che abbiano queste caratteristiche che abbiamo descritto quindi ci troviamo tra 20 minuti che è meno 10